Il cinquantesimo anniversario della discesa dell'uomo sulla luna, diciamo che questo convegno potrebbe essere la stessa cosa dopo tanti anni di lavoro che è stato condiviso con la provincia, che è stato condiviso con i sindaci, con la regione, con tutti quelli che avevano dei compiti istituzionali. Sostanzialmente ricordo che avevo partecipato a nome della provincia alla convocazione e alla deliberazione della conferenza dei servizi che ha approvato il progetto definitivo e poi verificata la importanza strategica di quest'opera. È stato approvato il progetto in sede di conferenza dei servizi come progetto preliminare attraverso il sostegno, l'intervento di tutti e ho ricordato i parlamentari, ho ricordato il senatore Carlotto in particolare, funzionari e assessori della regione Piemonte e della regione Liguria, capi compartimenti ANAS che si sono succeduti, siamo riusciti ad avere questa progettazione definitiva che mi sembra sia la base da cui è stato impostato a questo convegno e da cui adesso si deve partire perché se mancano i progetti le opere non si fanno. Quindi la prima cosa da fare nella prospettiva di realizzare opere è quella di fare i progetti. Quindi adesso bisognerà continuare in questa direzione, bisognerà eventualmente istituire un tavolo ed è una proposta che io farò a tutti quelli che sono i rappresentanti delle istituzioni che hanno organizzato questo convegno, un tavolo di concertazione per seguire passo a passo, momento per momento, la prosecuzione del programma così come è stato stamattina, delineato sia dalla dottoressa Casagrande che dall'ingegner Burro e che dal capo del Ministero dei Trasporti per quanto riguarda il settore strade.